Buongiorno a tutti, siamo con la Commissaria Vassiliu che ringrazio molto per il suo straordinario lavoro in questi sette anni in Commissione. Siamo qui a trarre le conclusioni di questa due giorni molto interessante, molto importante. La Presidenza italiana ha voluto mettere il tema dello sport non solamente da un punto di vista della competizione o di altri fattori che molto spesso attraggono l'attenzione dei media, ha voluto fare dello sport, è d'accordo con la Commissaria, una riflessione sullo sport come fattore di inclusione sociale, come grande infrastruttura sociale e quindi come tutte le infrastrutture lo sport è una cosa necessaria per lo sviluppo di un Paese. È un'infrastruttura educativa, è un mezzo straordinario, potentissimo di inclusione sociale, nello sport di solito non esistono barriere di nessun tipo, si gioca insieme appunto. È un'infrastruttura che consente di diffondere valori positivi come la competizione con se stessi e la collaborazione con gli altri e il dibattito di ieri ha dimostrato quante e quali esperienze vi siano in questi campi, come concretamente lo sport possa essere diventare davvero un mezzo incredibile per le politiche pubbliche. Abbiamo visto noi l'esperienza del Corviale, un'esperienza molto interessante, abbiamo conosciuto anche ieri sera i protagonisti di questa esperienza, ma ogni Paese ha raccontato delle esperienze veramente di straordinaria ricchezza e credo che questo dibattito abbia arricchito ognuno di noi e abbia permesso a ognuno di noi di essere ancora più consapevole dell'importanza che lo sport può giocare in questo campo. Nelle discussioni della mattinata abbiamo affrontato un altro tema molto attuale, che è il tema del fair play finanziario, è un tema che non riguarda, come diceva appunto la commissaria poco fa, mi diceva, non riguarda, va ricordato, solo il calcio perché in altri Paesi i principali sport magari sono il basket o altri sport e quindi è un tema di rispettare una regola d'oro, cioè agire secondo i propri mezzi e non oltre e agire con dei limiti, con dei limiti che non possono essere superati. Capite quale importanza ha l'applicazione di questo principio? Il Presidente Platini e il Presidente Malagonno hanno svolto due interessanti relazioni e poi si è svolto un dibattito molto ricco. L'importanza di questo tema è dimostrato anche nei numeri, il Presidente Platini ha riportato il fatto che si sono dimezzati i debiti delle società di calcio dopo questa iniziativa, da 1 miliardo e 7,800 milioni in poco più di due anni, quindi a dimostrazione che porre i problemi, porre i temi in maniera forte e decisa può permettere di superare le patologie, diciamo, perché lo sport è chiaramente una grande risorsa e una grande potenzialità ma a condizione che non si ammali di queste patologie, dell'eccesso di sfruttamento delle persone, dell'eccesso di finanziarizzazione, della mancanza di trasparenza e quindi credo che il dibattito di oggi anche abbia dimostrato come lo sport sì, possa essere una straordinaria potenzialità ma possa anche e debba anche essere vigilato, tra virgolette, per mantenerlo nella sua originaria impostazione. E quindi anche oggi c'è stato un larghissimo consenso alle relazioni, un larghissimo consenso tra i ministri e di tutti i Paesi. L'Europa credo che non sia mai stata così unita come nel campo dello sport, quindi lo sport ha un contributo fondamentale all'unità europea e non solo per il lavoro della Commissione ma anche davvero per la vera convergenza di idee e di opinioni che abbiamo osservato. Quindi davvero io accolgo l'occasione ancora una volta per dire quanto siamo stati onorati di aver ospitato qui a Roma in questa bellissima sede della Farnesina e ringrazio moltissimo i colleghi del Ministero degli Esteri, tutto lo staff per l'ottima organizzazione. Così come ringrazio il Maxi, ieri sera abbiamo visto una bellissima mostra molto innovativa, veramente molto interessante, che dà un altro sguardo sullo sport, uno sguardo artistico, appunto dicevo che lo sport è un linguaggio universale così come l'arte, anche l'arte è un linguaggio universale che supera le barriere e i confini, è una mostra che vi invito a visitare perché davvero merita. Quindi grazie, adesso darei la parola al Commissario Vassilio per il suo riassunto. Grazie. Thank you very much, Presidente, and I thank the Italian Presidency for organizing this informal council meeting. It's not very often that we have informal council meetings in the field of sport and we are very grateful for this because it gives ministers around the table the opportunity to react to each other and to reach some conclusions which are very important in our work. I must say that I am very lucky to be responsible for, among others, two areas which are very, very important for social inclusion. I am talking about culture and sport because both areas are two fields where action can really help people from disadvantaged groups to be integrated into society. And we had the pleasure to support the European Commission a number of projects in the context of our preparatory actions in the last few years, many projects which had to do with social inclusion through sport. And now, of course, we have the, for the first time ever in the history of the European Union, a special sport chapter in Erasmus+. From now on, we shall be in a position to support financially projects which have to do with social inclusion and, of course, in the field of other priorities that we have jointly set for the future. So, social inclusion, it is, of course, very important for Europe because we are talking about people with disabilities, immigrants, people from lower socioeconomic backgrounds, and it is important to help them to integrate into our society. And, of course, today, as you said, President, we have discussed another very important issue for the credibility of sport, which is the financial fair play. And, of course, this was the initiative of UEFA in the field of football, because football is probably the most popular sport, not only in Europe, but in the world. But it applies, as you said, to many other sports. It could apply to basketball, to volleyball, to many other sports. What is behind this is the principle that we have to have a fair financial management. I said it before to a journalist, and I will repeat it now. I remember, as a small child, my grandmother gave me an advice. Don't spend more than you have. And this I followed all my life. When I was a student, I remember I used to receive my monthly allowance from my parents, and I put aside what I needed for my rent, what I needed for my transportation, what I needed for my foodstuff, and then I could spend a little left from that allowance. And this is very important, because otherwise sport will get into trouble. And then it is the beginning of the evils. We have the match fixing. We have the corruption in the field of sport. And all this arise out of the fact that clubs are running into financial problems, because they spend more than their income. So it is very ambitious to fight it. But it is also very comforting to see around the table all the national ministers agreeing with the commission, agreeing with the presidency, agreeing with UEFA, that we have a common duty to fight this evil of financial non-fair play. So it is very important that we support UEFA in this fight for financial fair play. Thank you. Grazie. Vi sono domande? Opla. Prego. Aspetti il microfono, per favore, così consentiamo alla Commissaria di seguire le vostre domande. Allargando il discorso, oltre all'affair play finanziario, volevo capire se avevate parlato di mercato del lavoro legato allo sport. Ieri era emersa l'esigenza di creare un sistema di regole comuni. Oggi però, soprattutto negli sport di vertice, c'è molta differenza negli stati membri rispetto alle regole per l'impiego di atleti professionisti non comunitari. Avete affrontato questo tema? C'è questa possibilità? Per quanto riguarda i numeri, sono emersi, in merito al fair play finanziario, dei numeri, oppure è rimasta un'idea che viene emersa? È rimessa sul tavolo e poi diventa anche un po' difficile definirla e spiegarla sia ai cittadini e sia agli stessi atleti. Perché se non ci sono dei numeri che variano, poi immagino da società a società, diventa anche complicato capire bene di cosa stiamo parlando. Quindi un chiarimento su questo punto di vista, per cortesia. Tornavo su una delle ultime cose che ha detto la signora Basilio. Per quanto riguardava il problema del match fixing, la commissaria ha detto che alla base del match fixing ci possono essere anche problemi finanziari da parte delle società. L'Unione Europea e il Parlamento Europeo, solo che stava lavorando ad una legge europea sul match fixing, a che punto siamo? Ecco bene, allora, non abbiamo affrontato, rispondo alle prime due domande, non abbiamo affrontato né il tema delle regole del mercato del lavoro, di un mercato del lavoro comune, tra virgolette, dei professionisti dello sport. È stato affrontato il tema di professionisti, diciamo così, che sono legati a proprietà non chiare, cioè la cui, diciamo, professionalità è proprietà quindi di multipli soggetti finanziari non ben chiari. Quindi questo tema è stato fortemente denunciato dal Presidente Platini, quindi noi siamo tutti molto concordi che questo tema di una proprietà finanziaria sui calciatori o sui giocatori in generale sia un tema di poca trasparenza e che può assolutamente determinare conseguenze molto negative e che anche ha conseguenze etiche negative, come è stato sottolineato in molti interventi. Però non è stato affrontato il tema di un mercato del lavoro globale comune tra i vari Paesi, così come non è stato affrontato il tema, che è stato sollevato prima, dei numeri relativi alle singole discipline o dei tetti o delle questioni che rendono omogeneo una serie di limiti che possono determinare il fair play finanziario e renderlo solido. Diciamo che l'unico parametro che oggi è accettato da tutti è quello del pareggio di bilancio, del non impegnarsi in spendere più risorse di quante si introitano e quindi il lavoro sui limiti è un lavoro che dovrà proseguire nelle singole federazioni, nei singoli settori, appunto come iniziativa delle varie federazioni. Questo è sulla terza domanda, darei la parola alla commissaria Vassilio. Sì, non è stata l'initiativa del gruppo dell'europea, perché la commissione di un paese con il parliamento dell'europea Il Consiglio dell'Europa ha deciso, durante uno dei miei ministri del Consiglio dell'Europa, a procedere con la discussione e a reachare un accordo riguardo una nuova convenzione per l'integrità del sport. E quindi, abbiamo deciso di joinerci con il Consiglio dell'Europa e abbiamo ottenuto un mandato dal Consiglio della Commissione e abbiamo partecipato completamente nelle negociazioni per la Convenzione. Finalmente, un accordo è arrivato, la Convenzione è pronta per la signatura e ora è opena per la signatura. Per quanto riguarda la Commissione dell'Europa, la Commissione è concerned, i servizi legali stanno analizzando la Convenzione come si è accretato. Inoltre, abbiamo avuto il risultato di questa analizzazione e poi abbiamo ottenuto un mandato dal Consiglio per la Commissione per signare la Convenzione per l'Europa. Ma, ovviamente, i paesi hanno già iniziato a signare la Convenzione, che si è aperta un mese fa per la signatura quando hanno avuto il Consiglio dell'Europa la Commissione dei Ministri del Sport. Sì, permettetemi di aggiungere a quanto ha detto la Commissaria la nota italiana, cioè anche noi siamo pronti a firmare, appunto, come Paese. Stiamo attendendo alcune... il termine di questa analisi, essendo la Presidenza, ma siamo pronti a firmare, quindi anche l'Italia aderirà presto alla Convenzione contro il Mesh Fishing. Grazie. Vi sono altre domande, questioni? Bene. Allora, noi vi ringraziamo molto per l'attenzione in cui avete seguito i nostri lavori e vi auguriamo davvero una buona giornata. Grazie ancora. Grazie. 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 Grazie.